L'opera dell'uomo è intervenuta nel restauro del Battistero, prima all'esterno, concluso nel 2015, poi agli interni soltanto per le pareti verticali, che si è concluso oggi, e da ottobre partirà la costruzione del ponteggio centrale per permettere il restauro del mosaico della volta, che si proteggerà almeno per tre anni, dopo circa un anno di indagini. L'intervento di restauro delle facciate interne dei mosaici delle pareti del Battistero, che è stato un intervento di restauro molto complesso, che ha interestato sia la parte architettonica che gli aspetti strutturali del Battistero che i mosaici. In particolar modo, in quest'ultima fase, ci siamo concentrati sulla scarsella, sia nelle parti laterali architettoniche, e quindi il restauro dei marmi e del verde di prato, che della volta usiva. È stato un restauro che, in quest'ultima fase, ci ha visto confrontarsi con un precedente intervento di restauro, effettuato dall'Operificio delle Piafeture, nel primo decennio del 1900, che aveva distaccato una serie di porzioni di mosaico originale, per essere riallettato sul cemento. Quindi ci siamo confrontati sia sulla matta originale, con l'intervento di consolidamento, che sul cemento come intervento di restauro del 1900.